Questa è una mediorina che è anche un po' bagnata. Conosco questo sentiero abbastanza bene perché ho fatto una decina di volte con solo un paio per il passaggio. Sì metto questo, in giro passato 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 segonazione no, io ho dei salti e devo fare quindali di videoclipento il bel gli occhi quindi sono Grazie a tutti.